Radio Radicale, siamo con l'On. Elisabetta Gardini, Fratelli Italia, per parlare con lei dei fatti di Casal Palocco. Allora, la vicenda dei giovani youtuber che hanno investito, chi era la guida, ha investito questa auto facendo un surpasso, che cosa la induce a pensare e soprattutto come possono essere evitate questo tipo di, diciamo, tra virgolette, di imprese? Ma intanto bisogna che la responsabilità personale sia responsabilità personale, che non ci siano i soliti, le solite analisi sociologiche, la società che, le responsabilità sono personali. Quindi si deve prescindere dal contesto in cui è maturata, diciamo, questa gara di questi giovani? Il contesto è un contesto malato e quindi anche il contesto va considerato sbagliato. E lì però subentra anche un discorso culturale di questa società giustificazionista, dove la riprovazione sociale verso certi fenomeni è venuta scenando. Allora, quando tu giustifichi non c'è più la riprovazione sociale. La riprovazione sociale è un motore fortissimo che va ripristinato secondo le regole sane di una volta, come ci avevano educato i nostri genitori, come i nostri genitori erano stati educati dai nostri nonni, perché su quello non si deve, cambiano le tecnologie, ma i valori di riferimento, il rispetto che si deve prima di tutto a se stessi. Questi ragazzi non rispettavano neanche se stessi, ma qualcuno glielo dovrà insegnare il rispetto per se stessi e per gli altri. Allora, questi ragazzi sono cresciuti attraverso i social, attraverso, ecco, in questo caso avevano un canale YouTube e avevano fatto questa gara, questa impresa. Allora, lei ritiene che sia giusto vietare i social fino a una certa età? Ha ammesso che lei consideri YouTube come un social violento? No, non è YouTube il social violento, è l'utilizzo violento dei social, perché noi vediamo un cattivo uso dei social. Allora, siccome ho visto tante censure assurde sui social, su un pensiero politico, per esempio, sul pensiero politico il social fa la censura. Abbiamo visto abbannare un presidente degli Stati Uniti, cominciamo a abbannare questi ragazzi che fanno queste cose violente. e queste cose sì vanno regolamentate. Comportamenti pericolosi che mettono a rischio la propria incolumità non possono essere esibiti sui social, perché diventano per i ragazzi un modello da seguire. Diamo dei modelli che sono sbagliati. Ora, guardi, ovviamente tutti, adesso io stessa in questo momento parlo sull'emozione di quello che è successo, perché vedere un bambino, una bambina che muore in questo modo, uscendo da scuola, non è possibile. Secondo lei è giusto regolamentare i social? Per esempio, adesso io, qui citiamo il caso di YouTube, che dovrebbe evitare di monetizzare imprese come queste, oppure, per esempio, trovare un codice di regolamentazione per alcuni social? Ieri, per esempio, Elon Musk è venuto qui a Roma e ha incontrato... Ecco, allora, questi problemi devono essere affrontati in che termini, secondo lei? Guardi, sono temi molto difficili da affrontare, perché non bisogna mai scadere nella censura e spesso abbiamo visto che le regole sono state utilizzate in modo così arbitrario e possono sconfinare nella censura. Però, ripeto, noi dobbiamo come società, come comunità, tornare a valorizzare i nostri valori e quindi deprecare quelli che sono disvalori. Invece adesso c'è stato un appiattimento. Tutto quello che è possibile fare è permesso a fare. Tutto quello che passa per il cervello, ogni desiderio, un diritto, ogni voglia che ho va soddisfatta, non è così. E lo stiamo vedendo, questi raccogliamo i frutti di decenni di, non di libertà, di libertarismo, quello che tante volte qualcuno invece dice che va bene. Secondo lei, dopo questa vicenda, l'ultima domanda che le faccio, sarebbe opportuno, a suo giudizio, una stretta sulla cannabis? Perché, insomma, visto che uno dei ragazzi... Ma guardi, io da sempre, ma anche la nostra parte politica, questo le tocca un dato molto sensibile. Perché questo voler pensare che la cannabis possa essere un momento di svago, un momento che comunque io controllo, che comunque abbiamo visto invece che l'uso di queste cosiddette droghe leggere sono spesso alla base di questi comportamenti pericolosi. Quindi è chiaro che la droga, qualunque droga, è vietata, va vietata e ne va impedito l'uso e il consumo. E guardi che qui ritorna il discorso della riprovazione sociale, il discorso culturale. Perché proprio se lei parla con le forze dell'ordine che cercano nelle città di contrastare il consumo e lo spaccio, ti dicono proprio che la difficoltà che hanno a volte è che non c'è più una riprovazione sociale su questi comportamenti. Bisogna tornare alla riprovazione sociale, che è il più forte deterrente per certe cattive condotte. Non vuole dire nulla sull'operato della magistratura che si è limitata ai domiciliari? Guardi, avranno valutato, su questo non mi sento di dire nulla. Va bene, la ringrazio e grazie all'onorevole Elisabetta Gardini, Fratelli Italia.